Questa mattina la sessione sarà coordinata dal dottor Luciano Panzani, presidente della Corte d'Appello di Roma. Buon lavoro. Buongiorno a tutti. Incominciamo i lavori di questa sessione del convegno. Io sono Luciano Panzani e tengo a iniziare con un ringraziamento agli organizzatori e in modo particolare a Laura De Simone che si è veramente adoperata perché questo convegno potesse avere luogo in questo modo magnifico in cui già si sta svolgendo. Stamattina abbiamo un programma piuttosto fitto. Vi presento i relatori di questa sessione, il professor Antonio Rossi che insegna diritto commerciale all'Università di Bologna, il presidente Zanichelli che è presidente del Tribunale di Modena e poi il collega Vitiello che è presidente di sezione del Tribunale di Bergamo, il professor Bonfatti, ordinario di commerciale all'Università di Modena, Reggio, con il quale abbiamo già, anche con Vittorio Zanichelli ieri, discusso questi medesimi temi in un altro convegno, quindi continueremo il discorso che abbiamo, continueremo idealmente il discorso che abbiamo iniziato ieri e poi il dottor Maurizio Piglione che è partner di Einstein Young e responsabile per l'Italia delle ristrutturazioni aziendali la cui presenza c'è particolarmente importante perché dovrebbe dirci che cosa un investitore si aspetta dalle procedure, dalle nostre procedure per ottimizzare le possibilità di investimento nelle imprese in crisi. C'è sicuramente un gap quantomeno di comunicazione tra i potenziali investitori e tutti i soggetti che sono presenti nella gestione delle procedure, prima di tutto il legislatore e poi anche gli operatori, non sempre le esigenze degli investitori sono note e non sempre gli investitori conoscono viceversa quelle che sono le problematiche anche di carattere tecnico che devono essere affrontate nell'ambito delle procedure. E poi abbiamo la dottoressa Bortolotti che è giudice nel Tribunale di Bolzano. Abbiamo una mattinata piuttosto densa e quindi io inizierei subito la prima parte di questa mattinata riguarda le proposte di concordato concorrenti e un istituto nuovo che è stato introdotto dal decreto legge del giugno di quest'anno decreto legge numero 83 convertito poi con delle modificazioni e che ha modificato sensibilmente la disciplina vigente. E di questo tema discutono il professor Rossi e il presidente Zanichelli. Io dirò soltanto pochissime cose in apertura per non soprare tempo ai loro interventi. Come dicevo si tratta di un istituto nuovo, nuovo per l'Italia ma non nuovo in assoluto nel panorama europeo. L'idea è quella di mettere un po' di pepe nella salsa, rendere contendibile l'azienda attraverso le offerte di terzi, in questo caso terzi creditori, che possono presentare una proposta, una volta che l'imprenditore o il debitore ha presentato la domanda di concordato, può essere presentata una proposta alternativa, un piano diverso e i creditori sono chiamati a votare, a scegliere tra queste proposte. In questo modo si dovrebbe poter arrivare al risultato massimo possibile, cioè alla ristrutturazione e dismissione dell'azienda nelle condizioni più favorevoli per avere il massimo risultato di soddisfacimento dei creditori. Questo istituto peraltro presenta tutta una serie di problemi, a cominciare dal fatto che per la prima volta l'imprenditore corre il rischio, presentando la domanda di concordato preventivo, oltre al rischio dell'insuccesso del concordato, anche invece il rischio che qualcun altro gli porti via l'azienda. E quindi questo potrebbe essere invece che un incentivo a entrare in procedura, a entrare tempestivamente in procedura, che ciò che tutte le legislazioni concorsuali si propongono, perché è un principio acquisito quello della necessità di entrare rapidamente in procedura, se si vuole che questa si concluda con un successo, potrebbe essere spinto ad allontanarsene. E poi, quale può essere il contenuto della proposta, come si svolge la fase in cui un terzo interessato, ma che non è ancora il proponente, chiede al commissario giudiziale di accedere ai dati riservati dell'impresa per poi poter formulare la sua offerta, quali possono essere le cautele per evitare che questo strumento sia usato da chi vuole semplicemente carpire i segreti aziendali, impossessarsi del know-how o comunque evitare manovre di disturbo, anche semplicemente offerte non serie. Quale il meccanismo di informazione dei creditori per mettere ai creditori in condizioni di votare e di scegliere tra le diverse offerte che sono state presentate, quali i mezzi di tutela del debitore di fronte a un'offerta che può essere stata vittoriosa, ma che può poi portare invece comunque a un insuccesso del concordato e alla sua risoluzione, con la conseguenza paradossale che ne seguirebbe verosimilmente poi il fallimento, ma non per fatto del debitore, ma per fatto di un terzo. E questi sono soltanto alcuni dei vari temi che possono essere oggetto di questo dibattito. In sostanza siamo di fronte a un istituto completamente nuovo, la disciplina legislativa è tutto sommato abbastanza sintetica e per di più, come credo che il professor Rossi ci dirà tra un momento, non è stata raccordata, almeno in un istituto c'è la possibilità dell'aumento di capitale da parte del terzo e ci sono norme che obbligano il debitore concordatario a collaborare con il terzo, a ciò che questi possa portare a termine il piano e quindi anche sull'aumento di capitale, non è previsto ovviamente il diritto di opzione a favore dei vecchi soci, ecco come tutto questo si coordina con la disciplina di diritto societario che il legislatore non ha ritenuto di modificare. Allora io a questo punto darei la parola al professor Rossi, ah no c'è stato un cambiamento di programma rispetto a quello che è scritto, parla prima il presidente Zanichelli e credo che non ci sia necessità di stabilire dei tempi perché diciamo vi siete già più o meno ripartiti gli argomenti tra di voi. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio anche io ovviamente l'organizzazione, in particolare Laura De Simone che ogni anno ci presenta una novità, quest'anno come avete visto c'è la presentazione a sipario chiuso, poi si apre il sipario con i relatori schierati. Il presidente Panzani va già dato un quadro generale, io farò anche io una carrellata tra i problemi che si pongono di fronte a questa nuova normativa lasciando poi al professor Rossi di approfondire come riterrà opportuno questi problemi e anche di eventualmente di dare anche qualche soluzione. Fil rouge che diciamo accomuna gli interventi del legislatore dell'ennesimo decreto numero 83 questa volta del 2015 è quello della contendibilità dell'azienda. Contendibilità dell'azienda finalizzata ovviamente al miglior soddisfacimento dei creditori ma chiaramente introducendo anche problematiche nuove perché diciamo che questa contendibilità introdotta nel concordato preventivo è una novità assoluta del nostro ordinamento. La contendibilità la troviamo in primo luogo nelle offerte concorrenti sulle quali ovviamente non mi dilungo perché in materia di un'altra relazione dico solo che in sintesi rende inopponibili nei confronti degli altri creditori pattuizioni già raggiunte tra il debitore e un terzo che appetisce ad acquisire determinati beni. L'altro intervento sicuramente molto più se volete scioccante del legislatore perché non è scioccante quello delle offerte concorrenti visto che il debitore ha già deciso di privarsi di un bene. Diversamente avviene per il concordato preventivo nel quale l'intenzione dell'imprenditore debitore di gestire la liquidazione dei propri beni o trattenendo l'azienda o comunque facendo un determinato tipo di proposta di liquidazione dei beni qui invece interviene un terzo che fa una proposta completamente diversa o addirittura può acquisire l'azienda che invece l'imprenditore aveva ritenuto di volere tenere. Questa innovazione è stata diciamo interpretata in due modi diametralmente opposti come qualcosa che favorirà i concordati rendendoli sicuramente più favorevoli per i creditori senza portare alcun effetto negativo mentre invece altri temono che questa possibilità che si spalanca davanti all'imprenditore di essere tra virgolette spropriato del proprio patrimonio indurrà gli imprenditori che già sono abbastanza titubanti a iniziare queste procedure e come sappiamo le iniziano sempre troppo tardi li renderà ancora più timorosi di entrare nel circuito giudiziario per cui potremmo assistere invece ad una contrazione di queste procedure non tanto per i paletti che vengono messi sulla accessibilità quanto proprio per il timore che l'esito finale della procedura sia completamente diverso da quello da quello sperato. Vedremo se questo rischio sarà annullato dalle innovazioni legislative che dovrebbero uscire dai lavori della Commissione Rordof e in particolare dalla introduzione delle procedure di allerta da una diversa configurazione degli accordi di ristrutturazione dei piani attestati vedremo se tutto questo indurrà l'imprenditore a muoversi prima quindi a muoversi prima utilizzando una delle varie procedure che sono a sua disposizione. Certo questa possibilità che l'imprenditore venga privato del proprio patrimonio per iniziativa di un terzo iniziativa anche in ipotesi ostile pone quantomeno un problema di costituzionalità della norma. Promete di costituzionalità della norma che invece non c'era, ritengo, nell'indirizzo che ha preso sul punto la Commissione Rordof per la quale la possibilità di fare una proposta, vadate bene, non necessariamente concorrente ma una proposta da parte di un terzo presupponeva lo stato di insolvenza. Quindi presupponendo lo stato di insolvenza siamo in una situazione in cui il patrimonio del debitore sostanzialmente non è più nella sua disponibilità. Qua invece è previsto che l'offerta proposta concorrente possa essere fatta anche di fronte a un mero stato di crisi e può darsi che al fine di evitare questi rischi di costituzionalità, anche se questo non è senz'altro il contenuto della relazione, il legislatore abbia previsto la limitazione che la proposta concorrente possa essere fatta soltanto da un creditore. Un creditore che detenga almeno il 10% del credito. E qui però si pone già un problema. Deve essere un creditore, un titolare di un credito che era già creditore prima dell'inizio della procedura o può essere qualunque terzo che è divenuto creditore per aver acquistato crediti dopo l'inizio della procedura. L'addizione letterale della norma mi porta più per la prima interpretazione, cioè per ritenere che la legittimazione sia solo di colui che era già creditore prima dell'inizio della procedura, in quanto la formulazione dice uno più creditori che anche per affetto di acquisti successivi detengano il 10%. Quindi sembra che gli acquisti successivi valgano soltanto al fine di raggiungere la percentuale del 10% del credito risultante dallo Stato patrimoniale depositato dal debitore, ma che il presupposto sia pur sempre questo di essere già creditore anteriormente. La lettura della relazione darebbe invece un altro indirizzo, perché la relazione accompagnatoria, che badate bene, è accompagnatoria del decreto legge, quindi vale per quel tanto, in quanto poi la legge di conversione molto spesso, come in questo caso, stravolge in alcuni punti il decreto legge e quindi la relazione non sarebbe più attuale. Ma su questo punto dà un indirizzo ben preciso, perché dice che questo nuovo istituto crea i presupposti per la nascita anche in Italia di un mercato dei di stress e debiti, già da tempo sviluppatosi in altri paesi, tra cui in particolare gli Stati Uniti d'America. Allora, se l'intenzione del legislatore è quella di creare un mercato dei debiti inseriti nelle procedure concorsuali, è chiaro che l'interpretazione dovrebbe essere più lata. Se poi pensiamo che queste modifiche legislative sono state in gran parte uscite, uscite dal mondo bancario, dovremmo ritenere che questo potrebbe essere uno strumento per consentire alle banche di liberarsi dei crediti incagliati in una procedura, mettere un punto fermo sul valore di questi crediti, cedendole a terzi e quindi uscire dai dubbi e dalle lungaggini di una procedura concorsuale. Quindi è chiaro che questo 10% vorrebbe dire sostanzialmente ai terzi, se volete fare una proposta concorrente e non siete già creditori, andate a comprare i crediti dai grossi creditori, i grossi creditori sappiamo chi sono, quindi si otterrebbe risultato di creare questo mercato, ma soprattutto in favore di un certo tipo di creditori che potrebbero così uscire. Certo è che un'interpretazione o l'altra potrebbe avere dei riflessi sotto il profilo della costituzionalità, perché è un conto l'aggressione del patrimonio anche in una situazione di crisi da parte di coloro che essendo già creditori si trovano senza volere in una situazione a fronte della quale il legislatore mette a disposizione un sistema per diminuire l'esposizione o anche acquisire un vantaggio gestendo loro la procedura in cui sono coinvolti. Diverso è la situazione di un terzo che solo per fare, legittimamente intendiamoci bene, un affare, si inserisce in questa procedura e preleva contro la volontà del debitore il suo patrimonio. Quindi a seconda delle interpretazioni che si danno, senz'altro ci sarà più accesso a questa procedura se si utilizza le interpretazioni più lati, forse le interpretazioni più ampie potrebbero portare a qualche problema di costituzionalità. Quello che lascia decisamente perplessi è il fatto che non c'è alcun limite al contenuto della proposta concorrente. Mentre nell'offerta ai concorrenti, ma questo sentiremo se la mia interpretazione è corretta, Mauro Vitiello, c'è l'obbligo di conformarsi all'offerta originaria perché il Tribunale deve poi stabilire i criteri di comparabilità, ma credo con la proposta originaria, qui non c'è nessun limite. Per cui a una proposta di concordato in continuità aziendale potrebbe essere contrapposta una proposta veramente liquidatoria. Voi pensate al caso che faccio sempre del concorrente che è disponibile a investire una certa cifra per liberarsi di un concorrente scomodo. Un concorrente scomodo che è in crisi, ripeto, non necessariamente insolvente, ma che comunque dà fastidio sul mercato. Il debitore fa una proposta di continuità aziendale, il concorrente ne fa una liquidatoria con un piano che prevede l'accessione atomistica dei beni aziendali, magari tenendosi quello che interessa per la sua azienda e così portando alla dissoluzione dell'azienda che invece aveva una probabilità di rientrare sul mercato. È stato più volte evocato l'immagine del pendolo e in effetti qui il legislatore è abbastanza schizofrenico perché nel momento in cui introduce degli istituti per favorire la continuità aziendale, su questo mi sembra che non ci siano dubbi, qui introduce un meccanismo in cui in una prospettiva di continuità aziendale che aspetta solo l'approvazione dei creditori, introduce la possibilità di una proposta che invece va esattamente nel senso opposto. Quando è che si può propositare una proposta concorrente? Qualcuno ipotizzato anche nella fase del concordato in bianco, direi che questo è sicuramente una fase in cui è prematuro parlare di possibilità di proposte concorrenti in quanto concordato in bianco, concordato prenotativo, noi lo chiamiamo così in modo come dire giornalistico ma in realtà è soltanto una domanda per dire dammi il tempo di pensare cosa posso fare, per cui non sappiamo se evolverà in un accordo di strutturazione, se evolverà in un concordato, se evolverà nel fallimento o se non evolverà nel nulla, semplicemente perché l'imprenditore non presenta il piano e la proposta e quindi l'idea che si possa già inserirsi, ovviamente quale sarebbe lo scopo di anticipare una proposta concorrente, a parte quello di creare un po' di fastidio al debitore, quella eventualmente di avanzare quella richiesta di informazioni che il legislatore prevede sia nel caso di proposte concorrenti che nel caso di offerte concorrenti. Quindi diciamo che l'ammissibilità della proposta a mio avviso è solo dopo l'ammissione del debitore al concordato. Il termine sono 30 giorni prima dell'adunanza dei creditori. Perché questo termine di 30 giorni? Perché 45 giorni prima dell'adunanza dei creditori il commissario deve fare la sua relazione? E' un vantaggio che è dato al concorrente che dovrebbe pareggiare il gap conoscitivo sulle condizioni dell'azienda tra debitore e concorrente, è dato dal fatto che il concorrente può non solo chiedere queste informazioni e se c'è tempo vedremo quali sono i criteri per poterle dare, o meglio dei limiti in cui devono essere dati, perché certo non è discrezionale, il vantaggio che dà è quello di poter utilizzare il lavoro fatto dall'attestatore del debitore e dal commissario giudiziale, evitando di dover far attestare quelle parti del piano del debitore già presentato, che coincidono con il piano di colui che fa l'offerta concorrente. Quindi può, se i piani entro certi limiti coincidono per poi eventualmente divergere, è solo la parte divergente del piano che dovrà essere oggetto dell'attestazione della proposta concorrente. C'è un ulteriore vincolo, una linea difensiva del debitore per evitare le proposte concorrenti. Questa è data dalla percentuale che è prevista, deve essere assicurata, dice la norma, nella proposta originaria. Se la proposta originaria, secondo la valutazione, e vedremo cosa vuol dire, dell'attestatore, assicura almeno il 40% in caso di concordato non in continuità aziendale, o almeno il 30% nel caso di concordato in continuità aziendale, a questo punto non sono ammesse proposte concorrenti. Non è questa la sede per fare una disamina del significato del verbo assicurare, utilizzato anche ai fini del limite del 20%, che io ritengo non costituisca un obbligo, ma una forte e fondata previsione. Qui sicuramente, quando si dice l'utilizzo di questo termine, non significa un'obbligazione, ma significa una valutazione. Dice la norma che non sono ammissibili proposte concorrenti se nella relazione di quell'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento. Ora, è ovvio che l'attestatore non può attestare un fatto, un dato di fatto, cioè che sussiste un'obbligazione, quindi vuol dire una cosa diversa. L'attestatore deve dire che è altamente probabile, oppure diciamo pure, che è certo che la proposta di concordato sia, diciamo, credibile nella misura, almeno, quando propone una percentuale di almeno il 40% o di almeno il 30% nel concordato in continuità aziendale. Ricordiamo che nel concordato in continuità aziendale non c'è alcuna norma, anzi è espressione escluso, che ci sia una percentuale minima per l'accesso alla procedura. valutazione del Tribunale sulla attendibilità di questo 40% direi di no, direi di no perché non c'è nessuna ragione di non utilizzare la giurisprudenza della Corte sulla fattibilità giuridica, fattibilità economica. In questo caso direi che l'indagine del Tribunale deve essere fatta sulla congruità della attestazione, che dovrà essere un'attestazione completamente diversa da quelle che conosciamo, non dovrà essere un'attestazione basata sul più probabile che non, ma dovrà essere un'attestazione ancorata a dei dati certi e verificabili. Quando si fa questo tipo di valutazione da parte del Tribunale? È previsto espressamente che il Tribunale intervenga sulla proposta concorrente solo se la proposta concorrente prevede le classi e in questo caso il Tribunale valuta la corretta, diciamo, prospettazione delle classi. E questo è un problema non indifferente, la cui soluzione lascio al Professor Rossi, che è sicuramente più bravo di me anche su questo punto. Io mi limito a prospettare quali sono le ipotesi. Danilo Galletti ha ipotizzato che di fronte a un'eccezione sull'ammissibilità delle proposte, il giudice delegato, che direi certamente non ha competenza a decidere sull'ammissibilità, perché nel sistema è sempre il Tribunale che interviene sull'ammissibilità, il giudice delegato dovrebbe sospendere il procedimento di votazione, mandare al Tribunale perché il Tribunale decida se l'eccezione sull'inammissibilità di una proposta è fondato o meno. Questo avrebbe il pregio di evitare che si vada il voto su una proposta che potrebbe essere ritenuta inammissibile. L'elemento negativo di questa soluzione è che introdurrebbe un procedimento di cui il legislatore nulla dice, quindi sarebbe tutto da inventare, ma sarebbe un procedimento oltretutto che bloccherebbe si ne die o si ne die per un tempo apprezzabile, il procedimento di voto. Altra soluzione, invece, è quella di rimettere il tutto al giudizio di omologa. Anche se c'è l'eccezione di un'ammissibilità di una proposta, il giudice delegato, se le altre condizioni sussistono, fa comunque votare, lasciando poi al Tribunale in sede di opposizione e di omologazione del concordato, decidere se accettare o meno, accogliere o meno questa eccezione e quindi eliminare una proposta e eventualmente omologando quella che avesse raggiunto la maggioranza, oppure, se l'altra proposta, quella ammissibile, non ha raggiunto la maggioranza, rimetterla davanti agli elettori, ai votanti, perché a questo punto è chiaramente un conto è votare avendo due o tre prospettive, un conto è votare avendo una sola prospettiva e quindi qualche votante che avesse scelto altre proposte potrebbe riversare il suo voto sull'unica proposta rimasta nel caso in cui la ritenesse accettabile. Non parlo del ruolo del commissario giudiziale, pongo soltanto altri due problemi, poi dopo passo la parola. Cosa avviene se il debitore rinuncia alla proposta? Sicuramente la rinuncia può essere fatta, secondo la Cassazione, fino all'omologa. Secondo me sarebbe più corretto, in base a una tesi, come dire, contrattualistica del concordato, poterlo fare fin quando non si sono pronunciati i creditori accettando la proposta, perché a questo punto il contratto sarebbe concluso, ma diciamo che la deadline è sicuramente l'omologa del concordato. Questo, ripeto, non ci sono limiti fino a questo punto per la rinuncia alla proposta. Ma che fine fa la proposta del creditore concorrente se il debitore rinuncia alla sua proposta? Tesi, ovviamente motivata, e non poteva essere diversamente, di Stefano Ambrosini, è che tutto cade. Tutto cade perché è un procedimento che ha un legittimato iniziale, questo intervento da solo non può giustificare, l'intervento del creditore, del proponente concorrente, non può giustificare la prosecuzione del concordato se l'unico legittimato alla domanda di concordato rinuncia come suo diritto alla proposta. Io direi che questa soluzione, per quanto, diciamo, tecnicamente, forse ineccepibile, si presta una critica di ordine, di ordine, come dire, etico, se volete, o pratico, e io credo che la pratica, diciamo, le esigenze concrete non si possono ignorare, e forse anche è sostituibile, questa è opponibile, un diverso ragionamento. La considerazione di ordine pratico è ovvio. Il procedimento di concordato non è un procedimento semplice e non costoso. È ammissibile che chi dà inizio a questo procedimento, sapendo che potrebbe perdere, nel momento in cui si accorge che sta per perdere, butta l'aria al tavolo e se ne va, senza possibilità di reazione da parte di coloro che hanno investito soldi e tempo per fare legittimamente una seria proposta concorrente da sottoporre ai creditori. Quindi questo non mi sembra un risultato che potrebbe invogliare gli aspiranti concorrenti a entrare in una procedura che può finire semplicemente in un attimo perché chi sta per perdere dice non gioco più. Il ragionamento più giuridico è che è vero che la proposta non può essere presentata se non c'è un inizio di una procedura di concordato da parte dell'unico legittimato che oggi come oggi è ancora il debitore. Ma è anche vero che una volta che questa proposta diviene ammissibile perché è un concordato e pendente, acquista vita propria. Si affianca alla proposta originaria e perché ha lo stesso fine giuridico superare lo stato di insolvenza con un soddisfacimento non minimale dei creditori. Quindi una volta che è diventata ammissibile perché c'era quella del debitore non vedo perché debba cadere. Ricordo, anche se forse non è applicabile direttamente, ma il principio dell'articolo 306 del codice di procedura civile che prevede che la rinuncia non è efficace se non viene accettata da tutti coloro, ovviamente da coloro delle parti costituite, che abbiano un interesse alla prosecuzione del giudizio. Qui non siamo nell'ambito di un giudizio, siamo nell'ambito di un procedimento, ma il procedimento giurisdizionale credo che il principio dovrebbe valere. Ultima cosa è che cosa succede se il concorrente vince la gara e poi è inadempiente. Chi fallisce se ci sono i presupposti per il fallimento? Fallisce il debitore originario perché rimane pur sempre debitore o fallisce il proponente? Io direi che lo schema è quello in base al quale nell'articolo, nella norma sul concordato fallimentare è prevista la liberazione il concordato dice non si risolve nel caso in cui l'obbligazione di adempiere al concordato viene assunta da un terzo con liberazione del debitore originario. Credo che lo schema si verifichi anche qui. Il legislatore non sia minimamente posto il problema direi che questa norma dovrebbe essere applicata in via analogica perché il debitore originario il debitore non parliamo del debitore parliamo del proponente originario una volta che la sua proposta non è stata approvata perché ha vinto una diversa proposta è come se non l'avesse mai fatto è vero ha il debito originario ma non è il debito sicuramente da adempimento del concordato perché la sua proposta scompare ma se vale questo principio chi ha fatto invece il concorrente che ha fatto questa proposta si assume l'obbligo di adempiere alla proposta che fa per cui credo che ci sia un accollo liberatorio del debito da parte del proponente il concordato il quale deve adempiere pena se è una società ovviamente il suo fallimento ma non certo il fallimento del debitore originario la questione un po' più complicata se nell'ambito della proposta il proponente il terzo proponente entra nel capitale del debitore originario ma io credo che i termini non cambino nel senso che lo schema è sempre questo se il proponente entra nel capitale per adempiere tramite l'impresa in crisi l'impresa debitrice originario il concordato lo schema a mio avviso resta a collo del debito da parte del concorrente che ha vinto la gara sull'assegnazione della proposta che promette il fatto del terzo cioè promette nell'ambito della sua proposta di adempiere al concordato attraverso l'impresa debitrice originario ma noi sappiamo che se l'abitrice originario cioè il terzo in questo caso non adempia l'obbligazione che altri aveva promesso che avrebbe adempiuto l'onere diciamo l'inadempimento non è certo del terzo se non del terzo la cui prestazione è stata promessa se non diciamo nell'ambito del rapporto interno ma nei confronti dei terzi è colui che ha promesso l'adempimento da parte del terzo che risponde nei confronti dei creditori quindi a mio avviso anche in questo caso dovrebbe essere indenne il debitore originario dal fallimento ma rispondere con dei debiti senza annullamento del concordato colui che è risultato inadempiente cioè il proponente vincitore il terzo concorrente io qua mi taccio passo la parola al professor Rossi per vedere se ci risolve qualcuno di questi interrogativi grazie 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 a tutti